Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi vi presentiamo una ricetta d'oltreoceano. Le classiche ciambelle americane. Spiziose e golose. Iniziamo. 500 g di farina 00, 70 g di zucchero e 12 g di lievito. Aggiungiamo a filo 250 ml di latte. Due uova. E una fiala di aroma alla vaniglia. 6 g di sale e impastiamo. 75 g di burro. Mi raccomando, aggiungiamolo a poco a poco, in modo che si possa incorporare al meglio nel nostro impasto. E dopo appena 10 minuti in planetaria, ci spostiamo sul tavolo ed effettuiamo delle pieghe. Formiamo il nostro panetto. E lo facciamo lievitare in una ciotola. Per circa due ore. Passate le due ore, il nostro panetto è raddoppiato. Spolverata di farina. E lo sporzioniamo in otto pezzi. Formiamo delle palline. Ci aiutiamo con della farina se l'impasto tende ad appiccicarsi sul tavolo. E iniziamo a dare la classica forma delle ciambelle. Creiamo un buco al centro della pallina e con le mani ci aiutiamo ad allargare. Ecco qui, le nostre ciambelle iniziano a prendere forma. Lasciamo lievitare per circa un'ora su carta forno. Durante l'attesa della seconda lievitazione delle ciambelle, passiamo alla glassa. 100 grammi di zucchero a velo, 15 grammi di burro fuso, un filo d'acqua e iniziamo a girare. Ottenuta questa consistenza, aggiungiamo 40 grammi di cioccolato fuso e giriamo. Ecco qui, la glassa è pronta. Padella con olio, 180 gradi, iniziamo a friggere. Le giriamo e quando sono ben dorate, ora dire che sono pronte. Le facciamo asciugare con della carta assorbente e ancora calde, le andiamo a passare. sulla glassa. Decoriamo come più ci piace ed ecco qui, le ciambelle sono pronte. Squisite, sia per grandi che piccini. Perfette per una colazione golosa o perché no, uno spuntino pomeridiano. Se la videoricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao!